Stasera canterò uno dei più bei brani dei Beatles, una canzone di McCutney Lennon. Per piacere, per piacere! Accompagnato dal maestro Nando De Luca, mi canterò Yesterday. Yesterday, all my troubles seems far away, now I need a place too far away, oh I believe, yesterday. Yesterday, suddenly, saw a man how I used to be, dead shadow thinking of me, oh yesterday, and suddenly, why? Come prima, più di prima, da meno, e per la vita, da fine... Scusa un momento! Scusa un momento! C'è? Stavo cantando un pezzo! E stavo accompagnando io, scusate. Ma che cosa accompagnare? Un pezzo che non è come prima, io stavo cantando yesterday. Chi? Io. Chi è che è stato? Io stavo cantando yesterday perché hai fatto come prima. E stavo accompagnando... Ma chi se ne frega, stavo accompagnando, tu non devi accompagnare niente. Lascia giusto la cosa, tienita la sua e stai fermo Che cosa, stai facendo di avere il te Cosa ho fatto di male? Siediti e continua Anzi stai fermo Allora mi lasci mettere subito il cappellino per cortesia Che io Che cosa c'è? Che cosa c'è? Basta Che peperino caspita ragazzi Che peperotto Aspettino Usate scusa maestro Dall'inciso Ha detto che ti piacciono i ragazzi con ciuffo Ma ha detto che ti piacciono i tipi come me E io mi porto E se i capelli così a me lo avrò un bel bacio Scoppia la testa Scoppia la testa bestia Che dolore incommensurabile E sarà ancora peggiore E se non sai Sentito niente Sentito niente Va bene Vai avanti a fare Vai avanti a fare confusione Se sentissi lo dissi Ma non lo sentissi purtroppo Lei mi deve capirsi It's good And she's okay And she's okay Oh, I don't know, she would do so. Una rotonda sul mare, la discoteca che suona, vedo gli amici balla. Non ho sentito niente, però. Non ho sentito niente? No, ho sentito poco. Sei sicuro? Ho sentito pochissimo. Però non ho questo, no, scusa, eh. Non ho questo. Tira via il piedino un attimo. Tira via, ecco. Bastio, che male, forte. Basta, 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 basta. Certo, che cosa? Che cosa? Niente, ho sentito poco. Adesso finisco la cazzola e poi ti arranjo io. Ma, ma, sai che adesso... Ah, e poi ti arranjo io. Scusa, il carattere, eh. Il carattere? Si ricordi che è l'anima del commercio. Adesso lo dico più in letto. Quando ti dico che devi smetterla, non devi andare... Mi hai fatto sbagliare tutto il numero. Mi hai fatto sbagliare il numero. Mi hai fatto fare una figuraccia. Perché? Perché? Ciao, eh. Eh, adesso devo dire, devo dire così, questo adesso io. Mi hai fatto sbagliare tutto il numero. Mi hai fatto sbagliare tutto il numero.